Il Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, è uno dei più importanti musei di arte moderna e contemporanea d'Italia. Situato nell'ex Forno del Pane nel quartiere Porto, il museo si estende su una superficie di 9500 metri quadrati dedicati alla cultura visiva e alla sperimentazione. Oltre alle collezioni permanenti, il Mambo ospita spesso mostre temporanee. Dal 2012, ospita anche le collezioni del Museo Morandi. Il museo ripercorre la storia dell'arte italiana dal secondo dopoguerra a oggi. La collezione permanente del Mambo si articola in otto aree tematiche che documentano alcuni degli aspetti più innovativi della pratica artistica italiana e internazionale dal dopoguerra ad oggi. Queste includono opere di artisti come Filippo De Pisis, Antoni Tapies, Mimmo Rotella, Renato Guttuso, Mario Stifano, Pier Paolo Pasolini, Lucio Fontana, Maurizio Cattelan, Gilberto Zorio, Mimmo Paladino, Tony Krag, e molti altri.